ASMR in doccia, ti piace il suono dell'acqua che sbatte sul vetro, il getto d'acqua calda che ti scorre sulla pelle, il vapore che sale dal basso del piatto d'occia verso l'alto e il muro che diventa sempre più umido e pieno di vapore acqueo. Se questo suono ti rilassa appenato al mio sussurro, al mio whispering, questo è il video che fa per te. Andremo a fare un po' di trigger sotto la doccia, per prima cosa ovviamente dobbiamo andare a toglierci la maglia perché che doccia è con la maglietta? Quindi intanto vi faccio sentire il suono di questa maglietta di cotone che adesso andiamo lentamente a rimuovere perché un video in doccia con la maglia sarebbe come un cappuccino con caffè decaffeinato. ci siamo capiti? Il bello del cappuccino è quella sensazione di caffeina che ti sveglia la mattina. Allora, iniziamo. Tocco anche gli occhiali e per un momento almeno iniziamo a togliere la maglia e iniziamo a togliere la maglia. Eccoci qua. Rindossiamo le cuffie e gli occhiali perché c'è un po' di luce comunque. E possiamo iniziare adesso con una serie di trigger che abbinati al suono dell'acqua della doccia. Spero che veramente ti rilasseranno e mi auguro che questa volta, come spesso accade, che quindi anche questa volta ti addormenterai insieme a me. Lascia un like. Iniziamo subito a riscaldarci con qualche bacino umido e foccoso. stonti 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 storti stonti Oltre i miei baci sentite quella sensazione delle orecchiette che incominciano a riempirsi d'acqua. Visto che siamo in doccia prendiamo una spugna, con questa spugna adesso andrò a rilinzare per te. Per rilassarti dei skin sounds. Sposto momentaneamente il microfono più in questa direzione e andiamo a effettuare degli skin sounds, ok? Ok? Si è d'accordo? Buon suo, buon suo, merci beaucoup. Ok? Ok? Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-t fare una domanda. C'è qualcuno che vuole venire sotto la doccia a rilassarsi? Fammelo sapere con un commento in caso. Adesso, più di gli occhi, fatti deliziare dal suono dell'acqua che scorre. Relax! Gli occhi e non distrarti. Potrebbe entrarti. Non distrarti. Potrebbe entrarti. Non distrarti. Potrebbe entrarti. Non distrarti. Potrebbe entrarti. Viza. Sono arrivederci. Tchee, tchee, tcheeote. Tchee, tcheeote. Tchee, tcheeote. Grazie. 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 Come va, Frederick? Ti senti rigenerato? Dal sorrisino sembra proprio di sì. E adesso, sapete, sotto la doccia non può mancare la vista di qualcosa. La vista dell'uccello. Quindi, ed è un po' che qui su YouTube non vi facevo vedere l'uccello. Non può essere un videodoccia senza uccello. Noi. 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 Nel frattempo vorrei approfittare di questo video per fare gli auguri di buon compleanno ad una persona speciale, non so quando voi state vedendo questo video, quando uscirà, ma in questo momento in cui lo sto registrando, Roberta M90 compie gli anni, quindi qui a petto nudo e sotto la doccia non posso che dedicarti un gran limone di buon compleanno e appena finita la registrazione in live, ti dedicherò una fantastica canzoncina. Buon compleanno, Roberta, questo limone è tutto per te. Buon compleanno. Buon compleanno. Buon compleanno. Buon compleanno. Buon compleanno. Penso di parlare anche a nome di tutto il canale. E proprio così chiuderò il video in doccia con questo augurio. Ci vediamo in un prossimo video. Voglio vedere nei commenti tanti auguri. Buon compleanno. Roberta. Ciao a tutti al prossimo video.